Torna il 15 dicembre uno degli eventi di raccolta fondi più coinvolgenti dell'anno. La Fondazione Aurora Onlus ripropone infatti Messina in passerella, serata di solidarietà e moda. Lo scopo è la raccolta fondi a sostegno del centro clinico Nemo Sud, che presto raddoppierà i suoi posti letto e chiama dunque Messina a sostenerlo. Quest'anno sul palco del Palacultura saranno in 300 i modelli, 16 le aziende coinvolte, senza contare i protagonisti provenienti dal mondo della musica e dell'arte. Tra loro l'azienda Bernava, che donerà Nemo Sud 30.000 euro, 10 invece le categorie per questa maratona di solidarietà, gli avvocati, i commercialisti, i dentisti, i giornalisti, le associazioni, gli imprenditori. E non mancheranno categorie originali, come i matematici contro i letterati e le coppie. Ci saranno i 15 del birificio Messina, che sono al fianco di Nemo già dalla scorsa estate, con la campagna di raccolta fondi alla salute e che proprio sul palco del Palacultura doneranno quanto raccolto per il centro, ovvero 4.000 euro. E ancora medici, terapisti e operatori tutti del Nemo Sud, insieme agli amici di Nemo, sostenitori, pazienti e care giver. L'evento, che inizierà alle 20 e 30, sarà presentato dal giornalista Massimiliano Cavaleri e dalla responsabile comunicazione e fan-raising di Nemo Sud, Letizia Bucalovita. Ad aprire l'evento, 40 bambini del coro dell'Istituto Comprensivo Cannizzaro Galatti. Il modo più dolce per iniziare il racconto più bello di questo Natale messinese, scrivono gli organizzatori. Raccontiamo Nemo, che è il tema della quinta edizione di Messina in Passerella. Il racconto di nascita e crescita di un luogo di cura e amore per persone affette da patologie molto complesse che lottano ogni giorno con degnità e coraggio. Ogni categoria di modelli sarà introdotta da Daniele Bonanzinga, nota libraia messinese, che leggerà brevi aforismi, tratti da opere scelte, seguendo il tema delle singole sfilate. Non mancherà, ovviamente, La Voce del Centro, Testimonianza e le esperienze vissute in corsia, con due poesie tratte ai libri di Francesco Saporito, che conosce da vicino le malattie neuromuscolari e che saranno recitate dai grandi amici del centro.